L'Abruzzo conferma anche nel 2017 la sua vocazione alle esportazioni con oltre 9 miliardi di beni esportati nel 2017 più 10,2% e un buon potenziale di crescita ulteriore aumentando la diversificazione delle destinazioni di riferimento. A sostenerlo è un report sulla regione prodotto da Sace del gruppo CDP. A trainare le esportazioni sono il tessile, l'abbigliamento più 14%, gli altri tipi di manifattura più 11,2%, la chimica più 11% e l'automotive più 3,3%. Dunque l'export abruzzese tiene la testa alta rinsaldando il trend positivo del 2016 grazie ad un incremento del 10%, risultato che porta l'Abruzzo ad essere la terza regione esportatrice del mezzogiorno. Andando ad analizzare nel dettaglio i dati si vede come l'export abruzzese sia cresciuto in modo uniforme verso tutte le aree geografiche, si sono ulteriormente consolidate le partnership commerciali con le principali geografie di destinazione, ovvero Germania 4,8% in più, Francia più 7,7%, Stati Uniti e Spagna più 15,2%. Paesi che rappresentano le prime quattro destinazioni per le esportazioni abruzzesi, coprendo più della metà dei beni esportati dalla regione.